ciao benvenuto all'appuntamento quotidiano con il nostro calendario dell'avvento dove ogni giorno ti diamo tante idee per i tuoi regali di natale oggi vi presento le ormai famosissime tazze di bambù sono realizzate in fibra di bambù e resine naturali e anche se assomigliano a dei normalissimi contenitori di plastica infatti si possono anche lavare in lavastoviglie sono realizzate in materiali 100 per cento naturali possono contenere cibi e bevande sia caldi che freddi si lavano e si riutilizzano proprio come i normali contenitori di plastica sono disponibili in diverse fantasie e colori e volendo hanno anche in coordinato la loro lunch box per una pausa pranzo ecologica e piena di stile per conoscere da vicino tutte le nostre idee regalo passa in negozio ci trovi a bernareggio in via bonarrotti 15 se invece preferisce ordinare comodamente da casa puoi scriverci su whatsapp al numero 388 88 45 700 e volendo possiamo fissare un appuntamento in privato al di fuori degli orari di apertura oppure una videochiamata per scegliere insieme i tuoi prodotti preferiti a presto ciao